12 luglio, siamo sempre qui a Sherwood Festival, la tempesta nella foresta, questa volta c'è Letizia, alias Maria Antonietta, bentornata. Grazie mille, grazie. Questo è un palco, quello che abbiamo appena attraversato, che tu conosci bene. Sì, mi era sembrato infatti familiare appena arrivata, in effetti è vero perché ci sono stata l'anno scorso ed è stato bello, quindi sono contenta di esserci tornata. Quest'anno testi il second stage con un'altra band, cosa è cambiato all'interno del tuo sound, anche con questo nuovo singolo, con tutto quello che sta arrivando, cosa è cambiato? Sicuramente suonare per un periodo di tempo abbastanza prolungato e poter riflettere anche su quello che fai con un po' di distacco, perché poi i mesi passano e tu vedi le cose che fai con un'altra prospettiva. Mi ha sicuramente fatto maturare una consapevolezza maggiore di quello che voglio, di quello che ho in testa e di come voglio fare la musica, perché penso che sia un po' un percorso, non è che tu parti e subito riesci ad esprimere, a buttare fuori davvero quello che hai in testa, soprattutto a livello di suoni, di arrangiamenti, di tutta una fase che per me era sconosciuta, insomma, in qualche modo. La mia fase che mi appartiene è quella di scrivere il brano, poi tutto ciò che non è un contorno in realtà è una cosa fondamentale, però tutta la fase di produzione era qualcosa di estraneo, la mia esperienza e capacità. Ecco, questo periodo passato a suonare mi ha fatto anche, mi ha avvicinato a persone con cui collaboro adesso, con cui arrangerò i brani, con cui sto lavorando e questo mi ha permesso di fare molta chiarezza nella mia testa e quindi, diciamo, anche riguardo al singolo che è uscito da poco, Animali, anche ai brani che verranno, sicuramente l'augurio che faccio a me stessa e ai brani è che riescano a rappresentare al meglio me stessa nella maniera più pura possibile. Questo della purezza, questo del tuo pensare, del tuo pensiero è sempre stato un punto cardine. Tu non hai mai fatto mistero delle cose in cui credi, terrene o meno, e comunque hai portato sempre tutto dentro Maria Antonietta, tra virgolette, ma anche dentro Maria Antonietta, ma anche dentro quello che facevi con gli Young Wrists. Di tutto quello che hai fatto in passato, se dovessi riprendere un pezzo e rifarlo adesso sul tuo palco, qualcosa che chiaramente già non fai, quale sarebbe la cosa più improbabile che però ti piacerebbe rifare? Ma onestamente dei brani vecchi che ho scritto, ce ne sono tanti che sono rimasti proprio molto nel mio cuore, in realtà ne faccio tanti. Però c'è un brano che ho scritto per Young Wrists, che poi non ho più ripreso anche per, così, rispetto all'altra metà del progetto, perché mi fa poi un po' brutto suonarla, anche se è un brano che ho scritto io. È un brano che si intitola Little Girl e che ho scritto per Young Wrists, magari un giorno. Il mio sogno sarebbe riadattarla con un testo in italiano, perché era stata scritta in inglese, e poterla risuonare, però non lo so, forse è meglio che rimanga in quella parentesi mistica di Young Wrists. E magari la rivedremo, oppure no, non si sa, ma intanto nel frattempo è arrivata anche la tempesta per te, e la tempesta è arrivata per tutto il pubblico che sta già entrando qui nel parcheggio nord dello Stadio Ugane o per questo ultimo giorno di Sherwood Festival. Che cos'è per te la tempesta? Ma la tempesta è una realtà che dà fiducia, e questa cosa è una cosa molto bella, perché la fiducia è uno dei valori più importanti che esistono al mondo. Ed è stato molto bello per me quando ho parlato con Enrico Molteni, una delle prime volte, comunque ci siamo sentiti circa al disco, e gli ho detto, ma tu non hai sentito troppi provini delle cose nuove, sei sicuro? E lui mi ha detto, io mi fido, e questa cosa è bellissima ed è una cosa per nulla scontata, ed è sulla fiducia che si costruiscono le cose, sulle persone, e penso che sia questo, un collettivo di persone e un collettivo di fiducia, e questa è la cosa più bella che ci possa essere. E a proposito di cose con cui si costruiscono, rapporti, cose e tutto, c'è la plastica, che è quella a cui siamo più abituati, diciamo almeno in tre generazioni, per i CD che sono stati il supporto più usato. C'è il vinile, c'è il nastro magnetico e c'è la musica liquida. A te qual è lo stato, tra virgolette, che è più a grada? Ma in realtà, diciamo che la musica quando è su un supporto, è sempre su un supporto. Ecco, a me piace la dimensione live, e quindi la musica che non è sul supporto. Però se dovessi sceglierne una, sceglierei il CD, perché è il modo attualmente in cui si riesce a condividere più facilmente con le persone la musica, e si riesce a condividerla con attenzione, perché tutte le cose che viaggiano sul web, che sono importantissime, e anche io ne usufruisco ampiamente, però in realtà mi sono resa conto a volte che il risultato è che tu sei completamente bombardato di input e non ascolti con attenzione. Invece avere comunque un supporto che sia uno e che sia quello, ti porta ad avere più attenzione alle cose, che se sono state fatte c'è sempre una ragione, quindi comunque meritano di essere ascoltate almeno una volta con garbo. Che magari è anche racchiuso in un libretto carino anche da leggere. Assolutamente, assolutamente. Grazie Letizia, grazie Maria Antonietta, ti aspettiamo sul palco. Buon Sherwood 13, buona tempesta. Grazie mille, grazie.